Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Eccoci nello spazio riservato a come imparare delle canzoni semplici da suonare al pianoforte. Oggi vediamo un brano di Laura Pausini che è Invece No. Bene ragazzi, questa canzone si compone di due accordi all'inizio che sono Do maggiore, Do, Mi, Sol e Fa maggiore, Fa, La, Do. E inizia così. Forse bastava respirare, solo respirare. Possiamo portarlo sia così raddoppiato o più lento. Prima riprendersi ogni battito E non cercare l'attimo per andare via Non andare via Ok, qua aggiunge il Re minore Che sarebbe Re, Fa, La E poi farà ancora Fa e Do Perché non può Essere abitudine Di sempre senza De Resta di più sul Do Resta qui Spera l'impossibile Ok, qua c'è il ritornello Che farà Do maggiore La minore La, Do, Mi Poi ancora Fa maggiore Andando indietro uguale Fa, La, Do E Sol Maggiore Per quanto riguarda il Sol Prenderà prima un accordo che si chiama Sol 4 Cioè Anziché fare Sol, Si, Re Farà un passaggio Sol, Do, Re Prima E poi andrà a Sol Vi faccio sentire La faccio in una tonalità maschile Più bassa però Con la voce un'ottava più giù Però è uguale Per le donne faranno un'ottava più su E invece no Non c'è Più tempo per spiegare Per chiedere Se Ti avevo tanto amore Io sono qui E avrei Da dire Ancora Ancora Avete visto prima Ancora 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 C'è questo cambio Dal Sol 4 al Sol normale Ok Poi fa di nuovo Strofa Ritornello E la canzone resta sempre uguale Fino alla fine E sappiamo essere così Fa soltanto Do e Fa Forse mi basta respirare Forse mi basta respirare Solo respirare Un po' Forse mi basta respirare Forse mi basta respirare Forse invece no Sempre Do maggiore L'ho preso al basso Perché mi dà più l'idea Della chiusura Bene come abbiamo visto Anche questo era un brano Molto semplice Da suonare al pianoforte Io vi lascio comunque In descrizione Un link Su dove trovare Il testo con gli accordi In più Due link Per imparare Le accordi al pianoforte E la diteggiatura Per entrambe le mani Ciao ciao Alla prossima